Nel weekend aumentano ancora i casi di positività in tutto il Vesuviano. A Torre del Greco, fra sabato e domenica, sono stati 30 i contagiati rilevati al centro operativo comunale. Sale quindi a 331 il numero degli attualmente positivi, di cui 8 ricoverati con sintomi. Questa mattina è risultato positivo al tampone anche un membro della giunta comunale. Si tratta di una donna tra le nuventri come assessore. L'intero esecutivo è adesso in attesa di tampone. Positiva anche l'ex consigliere comunale Claria Gorga. Ad annunciarlo è stata proprio lei con un posto su Facebook. Sono a casa in isolamento e da due giorni con l'ossigeno, scrive. Si aggrava il bilancio anche a Dercolano, con 34 nuovi contagi fra sabato e domenica. Sono 425 i tuttora positivi. Tuttavia un breve sospiro di sollievo è stato tirato ieri con la guarigione accertata di ben 26 cittadini. Il sindaco Buonaiuto ha ribadito con un posto su Facebook la necessità di rispettare le misure anticontagio con il massimo rigore. 44 nuovi positivi anche a Bosco Reale, comunicati questa mattina dal sindaco diplomatico. Situazione gravissima anche a Castellammare, che sabato ha registrato 40 nuovi contagiati, arrivando ad un totale di 520 casi attuali. Questa mattina il sindaco Cimmino ha voluto ricordare la commemorazione per i defunti con un pensiero speciale alle vittime del Covid-19. 5 in città da inizio pandemia, morti in solitudine. Drammatica invece la situazione dell'ospedale San Leonardo. Il nosocomio stabiese ha dovuto convertire 8 posti letto di pronto soccorso, destinate ai codici rossi, in posti riservati ai pazienti Covid-19. Ieri mattina il caos, molte ambulanze sono rimaste ferme, fuori alla struttura, con a bordo i pazienti contagiati, in attesa che si liberassero i posti predisposti. Problemi anche al Covid Hospital di Bosco Tre Case, dove il 30-40% dei dipendenti, tra medici e personale sanitario, è risultato positivo. I contagiati verranno presto sostituiti, annunciato Gennaro Sosto, direttore dell'Asla Napoli 3 Sud. Abbiamo effettuato una revisione dei vari processi interni, continua, e nulla, né in termini di gestione del personale, né per ciò che concerne i dispositivi di protezione, lascia trasparire disattenzioni.